Hanno preso il via ieri mattina davanti al GIP del Tribunale di Palermo Filippo Serio gli interrogatori delle persone arrestate nell'operazione antimafia Condor che ha colpito i mandamenti mafiosi di Favara e Palma di Montechiaro. Dieci quelle raggiunte da misure cautelari, cinque in carcere, quattro ai domiciliari e una sottoposta all'obbligo di dimora. In collegamento da remoto in audio video sono stati interrogati Giuseppe Chiazza e l'operaio Baldo Carapezza, entrambi di Palma di Montechiaro entrambe assistiti dagli avvocati Giuseppe Vinci Guerra e Santo Lucia. I due detenuti hanno preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi tocca agli altri indagati. Le indagini hanno fatto emergere la figura di Giuseppe Chiazza ritenuto uomo di fiducia di Nicola Ribisi il 7 settembre del 2020 quando Nicola Ribisi viene informato che Giuseppe Chiazza stava svolgendo all'interno dell'impianto di pesatura dell'uva Camastra una non autorizzata attività estorsiva consistente nell'imporre ai danni dei camionisti il pagamento di una somma sui prodotti trasportati. Chiazza non sarebbe stato autorizzato ad imporre tale estorsione. L'8 luglio del 2021 le cimici registrano un dialogo in cui Chiazza si lamentava del comportamento di chi aveva diffuso la notizia della messa a posto imposta ai camionisti notizia arrivata all'attenzione delle forze dell'ordine. Chiazza rendeva una vera confessione ammettendo che nessuno sapeva delle messe a posto e aggiungendo che le somme riscosse erano destinate al mantenimento dei detenuti. Nelle pagine dell'ordinanza vengono ricostruite attraverso il collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta di Favara i rapporti tra i palmesi Nicola Ribisi e Antonio Chiazza che è stato arrestato nel Blitz Xidi. Quaranta ha riferito che è stato Nicola Ribisi ad ottenere da capomandamento di Canigattica L'Oggero Lillo di Caro che il presunto stigiaro Tonino Chiazza avendolo presentato come un proprio fratello avrebbe preteso ed ottenuto che venisse rispettato dagli altri associati a Cosa Nostra. Nicola Ribisi forte dell'autorevolezza di cui gode all'interno della consorteria mafiosa ottenne da capomandamento di Canigattica L'Oggero di Caro l'autorizzazione al trasferimento di Antonino Chiazza all'epoca a disposizione dello stesso Ribisi. Poi c'è lo sgarro alla moglie del boss e la lezione ai truffatori di Castro Filippo. Le cimici installate sull'auto di Giuseppe Sicilia portano alla luce la punizione chiesta e ottenuta dal capomafia nei confronti di due appartenenti alla comunità degli zingari della città della Cipolla che si sarebbero resi protagonisti della cosiddetta truffa dello specchietto ai danni della moglie del boss. È il 10 maggio 2019 e Giuseppe Sicilia insieme al cognato Domenico Lombardo si reca a Castro Filippo per individuare i truffatori si mettono alla ricerca di Jack e Giugiu, due esponenti della cosca locale. Il primo è il cugino dell'ex sindaco mafioso Ippolito, mentre il secondo era stato già indicato da collaboratore di giustizia di Gati, quale appartenente alla mafia di Castro Filippo. La ricerca andrà a buon fine e uno dei truffatori sarà individuato. A svelarlo sono gli stessi indagati che, intercettati in auto, commentano così quanto avvenuto. Hai appena visto? Lo ha visto? Gli ha dato una botta in testa.